Questo è Red Hulk, ah raga, questo qua fa malissimo, oh no 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 no, anche perché poi vuole fare qualcos'altro, no no no, io direi di andarcene immediatamente, soprattutto perché il signore qui è molto arrabbiato Vabbè, voi non avete visto niente, vero? Cioè nel senso non c'è niente, non c'è niente di strano, giusto? Allora, dove diavolo sono, scusatemi, cioè che caspita dovrebbe essere questa cosa? Allora, io qua vedo una cesta, io ho paura che però lui possa scendere, quindi magari sarebbe meglio muoverci Allora, ho un piccone, ok, quindi? Non capisco cosa ci sia di strano, adesso rompo questo, un attimo Aspetta un attimo, non posso romperlo Ah, ho capito, forse perché ci è stata impostata la modalità avventura Esatto, ho capito, ma se io non riesco a rompere l'altro blocco, come faccio a scendere? Allora, a me viene il dubbio, esatto, queste sono delle trapdoor, queste qua si possono effettivamente utilizzare E bisogna evidentemente in questo caso utilizzare un attimo il cervellino Allora, qua mi sembra abbastanza semplice, nel senso qua veramente Vabbè, non è che ci volesse proprio un genio del male, giusto? Oh, cosa devo fare quindi? Mannagina Ah, 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 è tutto più chiaro ora, il mio intelletto forse, forse sta funzionando Andiamo avanti, ehm, e questo però qua non ci vuole tanto intelletto Qua più che altro ci vuole destrezza con i tasti, cosa che io non ho Cioè, non che io avessi intelletto, non sto dicendo questo Sto dicendo che chiaramente faccio più fatica con i tasti Ah! Ok, perfetto, però forse ce la possiamo fare, per carità non caderebbe Sì! Sono diventato un parkouriero pro! Scusatemi, dai, allora, è stato molto cringe la mia reazione, me ne rendo conto Vi chiedo completamente scusa e vi permetto di punirmi nei commenti con un emoji a vostra scelta Mettete le emoji che preferite per, per, fra virgolette, punirmi, eh Vabbè, ehm, andiamo avanti, allora Aha! Ora con questa spada io immagino tecnicamente dovrei andare ad ammazzare il Red Hulk Ma io non so se voglio avvicinarmi al signore, eh Cioè, lo faccio giusto per purificare un attimo questo mondo da questa cosa E anche perché non si fa, signor Red Hulk Cioè, no, però il Red Hulk, mi sa che, però il Red Hulk è proprio forte Cioè, proprio cerca di, di fare il, eh Raga, per favore, mi stanno venendo tante battute in mente Anche perché come si fa a non ridere con questo Red Hulk Eh, raga, 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 ci stiamo prendendo a pugni Proprio in una maniera molto, eh, forte, molto hot, quasi Però, oh, ce l'ho fatta Ho vinto? Scrivetemi voi nei commenti se ho vinto E accetto qualsiasi cosa, anche perché qua il Red Hulk, mh Dopo aver toccato questa cosa, io direi di andare a lavarci direttamente nel mare Ma nel mare con la candigina È più utile E iscrivetevi al canale Lasciate like E ci vediamo al prossimo video Ciao